eccoci qua siamo al monastero ortodosso qui sopra san pietro monastero ortodosso russo guardate che bel monastero che hanno costruito qui vicino alla stazione di san pietro al centro nascosto fa bellissimo sembra di stare in russia o in ucraina eccoci qua monastero ortodosso russo eccoci qua qua dietro vedete la cupola di san pietro eccola qua però non si può entrare perché chiuso per chi è innamorato delle icone delle candele i monasteri ortodossi sono veramente campioni di queste cose per il covid è chiuso però fra qualche giorno riapriranno